Oggi, entrare nell'home banking di Banca di Piacenza è ancora più facile. Inserisci le credenziali nella home page di login e conferma l'accesso con il sistema di autenticazione date scelto, mobile token o secure call. Nell'home page troverai le informazioni con gli andamenti grafici dei tuoi conti, con il grafico del saldo e degli ultimi movimenti effettuati. Le azioni veloci personalizzabili in autonomia, le informazioni sulle tue carte. Il menu laterale è sempre disponibile per accedere a tutte le funzionalità dell'home banking, a tutti i servizi, informazioni e news. Puoi scegliere di visualizzare la pagina nella modalità chiara o scura. L'opzione scelta rimane salvata per l'accesso successivo. Digitando My Home Page nella barra di ricerca oppure dalle tue impostazioni, puoi decidere quali contenuti consultare direttamente in home page. Scegli il riepilogo dei conti o il patrimonio complessivo. Seleziona quali azioni veloci aggiungere e quali pannelli di scelta veloce. Salva le impostazioni per visualizzare la nuova configurazione. Se hai impostato la visualizzazione del patrimonio, cliccando su Personalizza patrimonio, puoi personalizzare la sua composizione, scegliendo quali rapporti visualizzare grazie all'uso delle squadre. Puoi anche aggiungere una nuova squadra direttamente dalle impostazioni. Clicca su Aggiungi squadra, nominala per identificarla, seleziona i rapporti che vuoi associare e salva modifiche. Vuoi eseguire un bonifico? Eseguire un bonifico è semplicissimo. Compila i dati obbligatori, dati beneficiario, l'importo, la data di valuta e la causale, e fai un bonifico ordinario indicando la data di esecuzione per trasferire la somma di denaro al beneficiario. Come eliminare l'invio cartaceo dei documenti? Accedendo ad Impostazioni, puoi scegliere se ricevere gratuitamente oppure mantenere l'invio cartaceo. Gestione avvisi Accedendo alle impostazioni, clicca su Avvisi e imposta Nuovo avviso. Seleziona l'avviso per la carta Bancomat e l'importo massimo oltre il quale desideri essere avvisato. Come renderlo unico? Puoi inserire l'immagine del tuo profilo. Clicca su Il mio profilo, seleziona la foto, caricala e salvala. Il tuo home banking apposta per te. Puoi inserire l'interrogio di un anno che fa pensare al fotografio di un anno che perdere la pensione. Puoi inserire l'invio cartaceo dei producchi ritori. Puoi inserire il nostro amici i marchi.